Che si muoveva negli occhi e le opri, vero? Che caldo! Di solito non c'è l'XM? Non c'è Dio, però... Che caldo, no? Che c***o! Più caldo degli altri giorni. Eh, lo sai. Sono un 43. 43 hai? Sì. Come? Fai un 43? Infatti ogni tanto il cambio mi incepe. Comunque vi sentivo, vi vedevo che mi recuperavate alla 16 ma... Ma si bloccava eh. Io ogni giro... Se c'è stato un giro si è entrato alla 7... Ho detto oddio. Comunque lì parte dietro. A fine della gara... Ad Acosta lì proprio gli vibrava. Infatti c'era lui secondo, poi dopo è venuto Bet. Sì. Bet l'ho visto, ho preso un jolly... Ma perché è andato dritto? Bet perché ti prendeva per dietro. Si andava dentro ti prendeva. Io l'ho sentito. Sì, sì. 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 Sì.